Sono arrivato in realtà al promontario di Capomiseno e ho finito il golfo di Gaeta, però poi ho deciso di arrivare qui al Black Dolphin dove è iniziato tutto. Circa due anni fa mi sei detto lì sulla spiaggia e osservavo il golfo di Napoli e dissi quasi quasi lo costeggio col kayak e quindi a giugno del 2022 sono partito dal promontario di Capomiseno e ho costeggiato l'intero golfo fino a Punta Campanella. E da lì poi è nato il progetto Ecosessibilità Nautica il quale prevede ogni anno una tappa nel costeggiare tutta la penisola italiana, isole stucche. Quindi mi sono allenato l'intero anno e sono partito venerdì da San Felice, ho costeggiato l'intera costa ed oggi in tre tappe sono arrivato qui a Capomiseno e poi qui a Pozzuoli. Ho percorso circa 120 km se non qualcosa in più, sono stato tantissime ore a mare, ho monitorato la costa da San Felice fino a qui e devo dire la verità sono rimasto abbastanza contento. Ho trovato mare pulito tranne in alcuni tratti tipo la foce del fiume agaritiano, quella del fiume volturno, però abbastanza pulito, sono abbastanza soddisfatto. L'unico grande rammarico purtroppo mi sono imbattuto a Monte di Procida in uno scarico fognario dove anche l'ho montato con video e con foto, dove usciva questo liquame maleodorante se vogliamo chiamarlo così. Mi è dispiaciuto tanto perché ho percorso questi 120 km e non mi sono imbattuto in questo e dove vado a imbattermi? Vicino a casa. E questa è stata una cosa veramente lutta che però non toglie poi la grande impresa e la bellissima avventura che ho vissuto in questi tre giorni. Voglio fare un ringraziamento speciale a mia moglie che ha reso possibile anche lei tutto questo dando assistenza, accompagnandomi venerdì mattina lì a San Felice e esportandomi poi lungo tutta la costa fino a qui. Voglio fare un ringraziamento speciale all'Ammi di Terracina dove io sono consigliere all'Ammi di Napoli perché mi hanno accolto in maniera esemplare. Sono arrivato sulla spiaggia, c'erano questa cinquantina di bambini con i cappellini che mi hanno fatto gli applausi, mi hanno dedicato canzoni, mi hanno fatto un sacco di domande. Ringrazio il presidente dell'Ammi, il vicepresidente e Marco, il grande Marco, il struttore di Kayak. Poi voglio ringraziare Gianluca con i soci del ciclo di Gaeta che mi hanno accolto lì al porticciolo medievale e voglio ringraziare anche il comandante delle cavallie di porto lì di Gaeta che è venuto a trovarmi. Abbiamo intrattenuto qualche pubblica relazione veloce, qualche chiacchiera così vicino alla Poi il porto.